Ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi finalmente si ritorna con i pronostici e come si ritorna? Si ritorna con il botto. Trentesima giornata di Serie A. Iniziamo subito, però mi raccomando, prima di andare a fare appunto questi pronostici, vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella, molto molto importante, lasciare un bel mi piace al video e scrivermi anche un commento perché sono curioso dei vostri pronostici, comunque almeno delle due partite principali più importanti di questa giornata. Comunque partiamo subito, ovviamente andiamo in ordine, vi ricordo che io pronostico sì chi vince, se pareggia, chi perde, però soprattutto il risultato esatto. Comunque partiamo subito, prima partita, venerdì alle 18.45, Sassuolo-Spezia. Partita che forse può sembrare facile per la squadra nero-verde, però secondo me sarà una tirata pazzesca. Vinceranno comunque, però lo Spezia gliela farà sudare veramente, veramente tanto. Infatti il risultato esatto dico 2-1, Spezia che arriva da un'ottima vittoria a salvezza contro il Cagliari per 2-0, quindi è comunque in un buon momento, però secondo me perderà quell'insassuolo anche se in trasferta se la lotterà assolutamente alla grande. Poi andiamo avanti, Genoa-Torino, anche questo bel match Genoa che arriva da sei pareggi consecutivi, una roba impressionante, tra l'altro la maggior parte 0-0, quindi difesa di ferro, ma attacco proprio che segna pochissimo. Torino che arriva da un ottimo pareggio contro l'Inter, stavano anche rischiando di vincerla e meritavano di vincerla. Periodo prima un po' brutto, però la partita con l'Inter sembra essere rinato e secondo me in questa giornata si porterà a casa i tre punti, quindi spezzerà i pareggi consecutivi del Genoa, risultato esatto vi dico 0-1 per i Granata. Poi passiamo a Napoli-Udinese, qui secondo me vittoria larga, abbastanza semplice per i partenopei che rincorrono ancora il sogno Scudetto che assolutamente è lì alla portata, è difficile ma è alla portata, non è impossibile assolutamente perché sono a pochi punti, poi con l'Inter che è un po' in crisi, il Milano adesso sta andando bene però a volte perde un po' di punti, il Napoli può cercare veramente di approfittarne e questa partita gioca in casa contro una squadra non big, non può sbagliare, deve portarsi a casa questi tre punti se vuole rincorrere appunto lo Scudetto. Udinese che diciamo in quest'ultimo periodo un po' castiga big tra vittoria e pareggi, ad esempio con il Milan pareggiato con la Lazio, pareggiato con la Roma, pareggiato, parlo delle ultime partite quindi hanno fatto perdere tanti punti alle grandi però secondo me stavolta il Napoli ci andrà giù abbastanza liscio e vincerà 3-0. Poi Inter-Fiorentina, primo big match dei due di questa trentesima giornata di Serie A, partita insidiosissima assolutamente per i Nerazzurri che è vero giocano a San Siro ma giocano con una grande squadra che quest'anno sta facendo un campionato a dir poco spettacolare ancora in piena corsa per la zona Europa e questa è una partita proprio da bollino rosso difficilissima per entrambe le squadre certamente e Inter che arriva da una crisi assolutamente da un brutto momento esce dalla Champions anche se al ritorno ha fatto una gran partita e ha vinto a Danfield però in campionato pareggia con il Torino all'ultimo ha perso il derby col Milan parliamo di qualche giornata fa pareggia con il Genoa insomma non riesce più a vincere nell'ultima partita ha fatto veramente pochi pochi punti e è passata da avere un possibile vantaggio di 7-10 punti sul Milan a essere sotto di 4 cioè di 5 scusate sempre con una partita in meno però è sotto. Comunque secondo me vincerà l'Inter che vedremo si riprenderà dalla crisi però questa partita se la porterà a casa risultato esatto 3-1 passiamo a Cagliari Milan quindi andiamo a domenica Cagliari Milan partita difficile difficile per il Milan che infatti secondo me non riuscirà a portarsi a casa i tre punti prevede un pareggio risultato esatto 1-1 Cagliari che è in zona salvezza 17esimo con il Venezia 18esimo ultima partita brutta sconfitta con la Spezia ma qua secondo me riuscirà a fermare il Milan. Alla Sardegna Arena con il sostegno del proprio pubblico secondo me questa giornata non la perdono e quindi agguantano un punto importantissimo passiamo a Venezia Sampdoria altro match salvezza perché ricordiamo la Sampdoria è ancora lì e non è ancora detto che si salvi partita quindi molto interessante tra due squadre che giocheranno per vincere questo ovvio tutte le squadre giocano per vincere però saranno veramente avvelenate agguerritissime perché la vittoria davrebbe un segnale importantissimo per quanto riguarda la lotta salvezza per entrambe le squadre partita che però secondo me si porterà a casa la Sampdoria con 5 gol totali risultato esatto 2-3 quindi partita anche combattuta passiamo a Empoli-Verona per questa partita prevedo un pareggio 2-2 quindi comunque tanti gol 4 gol Empoli che non arriva da un buon momento come mi aspettavo io ma anche credo quasi tutti è arrivato il calo in questo genere di ritorno però sono ampiamente tranquilli per quanto riguarda la zona salvezza poi ovvio tutto può succedere magari le perdono tutte però sono comunque abbastanza tranquilli e Verona che arriva da una sconfitta Verona che arriva da una sconfitta contro il Napoli certo l'ultima giornata partita comunque combattuta segnato di nuovo Faraoni insomma hanno dato filo da torcere al Napoli ma non hanno vinto, non si sono portati a casa neanche un punto e per questa partita appunto vi dico X quindi pareggio Juve-Salernitana secondo me finirà 2-0 per la Juve Juve che arriva da una bruttissima, disastrosa, imbarazzante eliminazione in Champions contro il Villarreal ma secondo me questa partita apparentemente facile ma non lo è, non lo sarà intanto nessuna partita è facile ma poi la Salernitana è agguerritissima perché cerca appunto di salvarsi però secondo me vincerà la Juve 2-0 arriviamo alla partita il derby della Capitale la partita che vale una stagione a parte che moralmente influenzerà non poco anzi tanto secondo me ma poi proprio a livello di punti, di classifica darebbe una bella svolta un segnale a quella che è la lotta per l'Europa League di fatto e per questa partita io non faccio un pronostico di risultato vi dico solo over 2.5 quindi sopra i 2.5 gol che di fatto vuol dire dai 3 in su quindi secondo me sarà una partita piena di gol una partita spettacolare lo spero ovviamente però si spera che vincano i bianco celesti ultima partita di questa giornata Bologna-Atalanta anche questa bella partita Atalanta che arriverà da appunto stasera giocano contro il Bayern Leverkusen quindi si saprà se sarà passata ai quarti di finale di Europa League oppure sarà uscita da questa competizione quindi vedremo come ci arriverà non posso saperlo visto che la partita è stasera comunque secondo me vinceranno abbastanza ampiamente tranquillamente contro il Bologna gol e Ada se così si può dire e prevedo il risultato esatto 1-4 comunque vi ricordo fatemi sapere i pronostici qua sotto con un commento e niente un bel mi piace iscrivetevi al canale attivando la campanella molto molto importante e niente io vi saluto ci vediamo in un prossimo video molto probabilmente con un post partita bello grazie a tutti